Ciao a tutti ragazzi, oggi recensione del per me attesissimo secondo Maxi Zagor con le storie brevi. Allora, prima di iniziare la recensione, cioè più che una recensione, vorrei dare un mio parere personalissimo su quest'opera. Per chi non mi conosce, io non mi perdo in tecnicismi, non mi interessano, non mi interessa se il disegnatore ha disegnato l'albo stando su un piede solo e con la lingua, non mi interessa se, senza garantismi di sorta, cioè non mi interessa se uno dei disegnatori ha creato capolavori grafici, come per esempio Colconda, per citarne uno. Cerco di essere sempre più disincantato possibile e di dare un parere da lettore, cioè quindi l'ho letto, mi piace o non mi piace, cioè questo senza, cioè senza essere troppo, cioè cercando di essere quanto più soggettivo possibile. Faccio una premessa, non mi è piaciuto molto rispetto al primo Maxi Zagor, alla prima operazione, quella che vedeva anche coinvolti Paolo Di Orazio, la Lola, non so se vi ricordate la precedente recensione del precedente Maxi Zagor con le storie brevi, era una recensione entusiasta. Questo sinceramente non mi ha colpito molto, adesso vi dirò perché. Allora cominciamo subito con il primo difetto. Allora, una cosa che dissi anche nel precedente video, gli autori sono tutti qui infilati così, cioè con questa gangbang di autori, soggetto e sceneggiatura, Burattini, Francesco Testi, Luca Barbieri, Adriano Barone, Andrea Cavaletto, Diego Paolucci, disegni Stefano Voltini, Esposito Bros, Luigi Piccato e Renato Riccio, Paolo Bisi, Marcello Maggiantini, Emanuele Barisone, Enzo Troiano. Tutti infilati così. Essendo io, infatti questa cosa qua che vedete, sono tutti i segnalini che ho dovuto mettere io per distinguere le varie storie. Allora, come dissi l'altra volta, se sono delle storie, cioè se l'albo è composto, questo volumone che trovate in edicola, al prezzo di 6,90€, diciamo il prezzo ci sta pure, non è un pezzo alto, visto che sono quasi 300 pagine di fumetto, costa quanto due zagor alla fine. E questo volumone che trovate in edicola appunto raccoglie tante storie brevi di tanti autori, ma proprio per questo motivo, perché non fare, che so, tipo il colorfest e mettere i titoli di ogni storia con l'autore a cui si riferisce, l'autore che l'ha scritta e il disegnatore che l'ha disegnata? Cioè, perché mettere tutti così a muzzo nel gruppo che poi uno deve andare a cercare, non ne vedo il motivo. Un'altra cosa che è, un'altra critica che devo fare, allora, i racconti di Duckwood, che è praticamente il titolo di questa collana di storie brevi, operazione che a me piace molto. Cioè, fosse per me io fare uscire un albo con le storie brevi di zagor anche una volta al mese, perché l'idea di per sé delle storie brevi a me piace tantissimo. E sottotitolo, brividi d'altrove, quindi si capisce e c'è anche un narratore di eccezione che è Edgar Allan Poe, quello vediamo sotto, lo metto e scrive delle storie e racconta di zagor. Però, ecco che cosa non mi è piaciuto. Vabbè, anzitutto, le storie nel volume sono, diciamo, delle storie scritte e mai pubblicate, teoricamente, da Edgar Allan Poe. Però, sembrano invece non avere un filo conduttore, soprattutto con Edgar Allan Poe, perché non direi mai che una storia come per esempio La morte rossa o Dal profondo della terra potrebbe mai essere stata scritta da Edgar Allan Poe. Ecco, mi aspettavo delle storie un po' più da brividi. L'ultima poi, diciamo, mi aspettavo ecco delle storie horror. In realtà l'horror non c'è. C'è il soprannaturale, alcune storie, ma niente di più. Quindi, diciamo, già il collante in questo modo tiene poco. Poi, un'altra critica. Possibile che nel 2019 non si riesca a trovare ancora un espediente un po' più originale del ti racconto una storia, raccontami una storia, ti leggo una storia... Ragazzi, cioè, allora, o eliminiamo questo collante, cioè eliminiamo questa storia, cioè perché alla fine non serve, messa così, non serve assolutamente a niente. Cioè, è preferibile davvero una formula tipo il Color Fest, cioè storie brevi, punto e basta. Cioè, senza questa pseudostoria che tiene insieme tutto, che poi non tiene insieme niente, perché crea solo delle, almeno personalmente, mi crea solo delle perplessità. Quindi, diciamo, vabbè, Edgar Allan Poe, alias la gente rave, viene richiamato nella base di altrove per, diciamo, raccontare dei manoscritti, leggere dei manoscritti che raccontano di Zagor. E qui partono le prime storie. Allora, vi parlo di una storia per volta, senza fare spoiler, esprimendo solo un piccolo parere su quella che è stata la storia. Ripeto, molto, molto scarno come, però, diciamo, ci sta, cioè, essere che siano delle storie easy, vabbè, ci sta, perché sono delle storie brevi. Non ho contato le pagine, storia per storia, saranno 32 pagine a storia, credo, le 32 tavole standard. Però mi aspettavo qualcosa di più. Nel complesso, il precedente Maxi aveva comunque una qualità di tutte le storie un po' più alta, sinceramente. Poi, un'altra cosa mia personalissima. Nel precedente Maxi, che non era sfondo horror, c'era Paolo Di Orazio. Perché non richiamare un maestro come Paolo Di Orazio per un Maxi Zagor dedicato all'horror? Misero. Vabbè, prima storia. La morte rossa. Allora, no, anzi, cominciamo dalla primissima storia, in realtà, che è Brividi d'altrove, che è la storia, no, quella che tiene, diciamo, il collante, appunto. Soggetto e sceneggiatura, burattini, disegni, voltolini. Non mi è piaciuto molto l'Incipit. L'unica cosa che mi è piaciuta di questa storia è magari questo gioco tra Edgar Allan Poe e la bottiglia, diciamo che va a caratterizzare un po' il personaggio, però niente di più. Rimane tutto molto, molto bravo. Il finale poi lasciamo perdere, cioè, un finale così, proprio per dire ciao. I disegni buoni, cioè, niente da dire sui disegni. Diciamo, per quanto riguarda il comparto grafico di questo Maxi, sono al 90% soddisfatto perché c'è una pecca per me grandissima. e poi vi dirò chi è. La morte rossa, soggetto e sceneggiatura, soggetto e sceneggiatura, testi e disegni, esposito, bros. Molto easy la sceneggiatura. Parla della solita città dove si fanno i sacrifici umani per il solito demone di turno, quindi una cosa vista, vista, rivista e stravista. Zagor che salva le fanciulle, quindi niente, niente di niente di originale, tranne che per... Guardate questa vignetta, mi è piaciuta un sacco. Questo mi sembra scheletro, no? Cioè, è bellissimo questo. Ecco, dicevo, l'unica cosa che mi è piaciuta, forse, è la dinamica, è il combattimento tra il demone e Zagor, bello, questo sicuramente è bello. I disegni, bellissimi, niente da dire sui disegni, però come storia, diciamo, molto così leggera. Non propriamente un horror, diciamo, anche molto leggero come horror, va bene. Quindi, si procede, Erika Lampo racconta un'altra storia, la seconda storia è Dal profondo della terra, soggetto è sceleggiuto da barbieri, disegni piccato riccio. Ecco qui. Allora, qui, vi faccio vedere solo... Allora, anatomie un po' strane, i disegni non mi sono piaciuti per niente. Sono... Mi ho trovati molto, molto tozzi, molto... E allora, eppure, no? Nella presentazione, qui, qui dicevo, ecco, perché poi non mi interessa, no? Se... E... Cioè, se il disegnatore, perché io, appiccato, devo tantissimo, cioè, li devo un album, o ci vuole, come Golconda, che per me è un capolavoro, Golconda di Dino Dog, è un capolavoro, non sia dal punto di vista... Cioè, sia come sceleggiatura, sia come disegni, è perfetto. Però, non per questo, diciamo, va bene tutto ciò che uno disegna, non ci sta, che ci siano degli alti e dei bassi. In questo caso, il... Già non mi era piaciuto il precedente Zagor di Piccatto, Zenith 666, non mi era piaciuto per niente come disegni. Qui, ancora, ancora peggio, se possibile, e... direi che, per quanto mi riguarda, ecco qui, cioè, per quanto mi riguarda, Piccatto su Zagor, non lo voglio vedere. Cioè, non mi piace, mi dispiace, mi dispiace, no? di dirlo, perché, cioè, ripeto, sono anche affezionato a certi autori, però, è uno stile che non ce lo vedo molto su questo, su Zagor. La storia, anche la storia, alla fine, è... niente di che, ma perché, ripeto, è il disegno che disturba molto, magari, la stessa storia, perché è carina l'idea degli zombie, però, la stessa storia, magari, disegnata, da... cioè, con un segno un po' più... un po' più cubo, un po' più... cioè, sarebbe stata, forse, perfetta, cioè, sarebbe stata, proprio, una storia d'atmosfera. E quello che manca in questa storia, è proprio l'atmosfera che non viene data attraverso il disegno. Quindi, purtroppo, direi che il disegno è andato anche a ledere un po' quella che poteva essere una sceneggiatura interessante. E mi dispiace, se dovessi dare i voti, diciamo che questa storia abbassa di molto tutto il... la votazione finale del Colorfest. Direi che, per me, personalmente, ribadisco, cioè, non scrivetemi poi sotto i commenti, tipo, ah, non capisci niente, eccetera, per me, personalmente, a me personalmente, non è piaciuta, quindi gli darei un tre, ma nemmeno, perché c'è una cosa evitabilissima. La bestia del passato, soggetto e sceneggiatura, barone, disegni di Ibisi. Ottimi, ottimi, davvero, davvero belli di disegni di Ibisi, bianco e nero, non ci vuole da... d'atmosfera, alcuni... alcuni volti, magari, un po' strani, però, davvero belle le ambientazioni, bello, ecco, come è stato realizzato il mostro, la bestia, anche qui, nulla di originale, nella sceneggiatura, c'è il... solito tema, c'è anche una... una tavola a mezza tinta, davvero bella, davvero bella la tavola a mezza tinta, anche qui, come soggetto, niente di originale, un po' quello che... un po' che so alla King Kong, cioè il solito scienziato che vuole prendere la bestia per studiarla, e... ignorando poi che... battendosi le palle, se poi la bestia è considerata sacra per il suo popolo, eccetera, eccetera, insomma, un po' così, una storia che abbiamo già visto sicuramente. E... dovessi dare un voto, darei un 5 e mezzo, per così, giusto perché è stato comunque piacevole leggerla. La migliore. La migliore dell'otto per me è Le radici del male. Scritta da Cavaletto, disegnata da Mangiantini. Ecco, qui io direi che ci siamo, è una storia dagli atmosfere horror, sia per quanto riguarda i disegni, vedete che bello questo... questo gioco di contrasti, sia per quanto riguarda i disegni, che per quanto riguarda la storia. promossa. Non ve la anticipo, perché è anche abbastanza... di originare non c'è niente, alla fine, nel senso non che di originare non ci sia niente in questo zago, diciamo che comunque, tutte le idee ormai per quanto riguarda loro sono state già sdoganate. Però in questo caso mi è piaciuto come... guardate questa tavola, un po' la buon thing, mi sembra. In questo caso mi è piaciuto come è stato comunque raccontato un tema magari non originalissimo e soprattutto come è stato disegnato e realizzato. Io direi complimenti a Cavaletto e a Magentini perché alzano di molto il voto di questo Maxi Zagor. Dovessi dare voi, io so, oggi sono mai mai dati i voti, oggi sono dando i voti, vabbè, dovessi dare un voto direi un 7, anche un 8 forse, o mi sbilancio. Il penultima storia, Lo Spirito della Vendetta. Lo Spirito della Vendetta forse è la storia più easy di tutte a livello di sceneggiatura. Soggetto e sceneggiatura Polucci disegni Barison. E... belli disegni di Barison ho fatto belli disegni di Barison diciamo nella nella sua semplicità. C'è uno zago disegnato un po' alla tex è uno zago molto molto maturo per come è stato disegnato bello cioè bello cioè a me cioè personalmente è piaciuto magari davvero forse un po' un po' troppo duro nei lineamenti forse un po' però ci sta mi piace mi piacciono anche questa questa carica emozionale che ha questo disegno la storia c'è uno spirito che attende fuori dalla porta che vuole consumare la sua vendetta zagoro in questo caso non può nulla diciamo è più un osservatore che vede davanti ai suoi occhi consumare la vendetta di questo spirito non non potendo fare niente ah un'altra piccola cosa sempre a proposito degli esperienti allora in uno viene c'è una magia che gli impedisce di muoversi di muovere gli arti perché per colpa di una stregoneria subisce questa debolezza in un altro gli viene spruzzato una droga lui è impossibilitato a muoversi ecco anche questo certo l'eroe non deve essere perfetto quindi ci sta che abbia l'intoppo in questo caso però su quattro storie su cinque c'è tre storie su quattro che potete sempre mettere questa cosa qua dell'eroe anche qui magari un po' più di alla fine dopo tanti anni cercare qualcosa di nuovo non sarebbe male ultima storia il sacrificio umano il sacrificio umano soggetto e sceneggiatura a burattini disegni di troiano allora mi è stato riferito che questa storia ha fatto bestemmiare non poco il popolo degli zagoriani cosa penso io di questa storia allora anzitutto non mi è dispiaciuta il disegno di troiano è bello anche se si vede che è un disegno più da illustrazione quindi manca poi un po' di cioè si vede che è proprio un extra extra bonelli insomma cioè non è proprio diciamo per questo genere di fumetti però ci sta come diciamo io la vedo come un bonus extra questa storia non mi è piaciuto molto ecco in certi punti sembra quasi java sembra anzi sembra un misto tra java e conan la storia forse ricorda un po' potrebbe essere una storia di conan il barbaro una caratteristica sicuramente nuova di questa storia non so se è questo che ha fatto castimare gli zagoriani sono è un fumetto a tette eccolo qui una storia a alto carico erotico cioè questa fanciulla da subito sembra essere diciamo non mi spoglio una storia faccio vedere solo qualche scena no? c'era subito sembra ecco essere ben disposta verso zagor e volete sapere se alla fine zagor tromba sì direi di sì forse sì forse non si capisce c'è questa bellissima scena la faccio vedere molto rara in zagor vedere zagor con tutto il suo corpo su una sulle fanciulla non voglio cerco di non fare battute sto cercando di tenermi in buono con le battute però insomma diciamo che anche in zagor gliela appoggia sicuramente quindi ci sta per me ci sta poi magari una cosa del genere davvero fa bestemmiare uno zagoriano però non mi è dispiaciuto ecco se dovessi vederlo sempre no perché Dylan Dogg è Dylan Dogg e Zagor è il zagor quindi non bisogna mai non bisogna uscire andare fuori il registro bisogna comunque mantenere quello che è la la linea anche anche la tradizione poi del personaggio quindi però in quel contesto in questo in questo contesto come diciamo un bonus extra ci sta anche una storia zagoriana un po' un po' erotica magari si potrebbe anche fare visto che questo maxi è un si intitola brividi d'altrove no magari sarebbe anche bello l'idea di fare dei maxi divisi in generi cioè quindi il prossimo magari di fantascienza e poi uno che vada sul giallo uno sul western cioè così andare un po' nei vari generi quindi diciamo questo maxi ha delle caratteristiche sicuramente sperimentali se in storia inedita uscita questa volta dalla penna di un narratore d'eccezione l'agente raven della base di altrove nome in codice di Edgar Allan Poe lo scrittore del terrore e del mistero ha messo su carta alcune avventure dello spirito con la scura di cui lo stesso zagorio gli ha parlato durante i loro incontri scelte fra le più brevi e fulguranti in linea con le inquietudini dei suoi incubi in un'antologia da brivido ecco in linea con le inquietudini dei suoi incubi non mi trovano d'accordo perché non sono delle storie alla Edgar Allan Poe avrei preferito delle storie alla Edgar Allan Poe sinceramente magari un po' più forti come horror e certo il zagor magari sarà anche una lettura per famiglie lo so magari non bisogna esagerare però un po' ma avrei calcato un pochino più la mano ecco sul discorso dell'horror quindi diciamo che questo questo maxi ve lo consiglio se siete elettori abituati di zagor magari vi comprate pure questo se dovessi consigliarvelo a prescindere no sinceramente ecco vi consiglierei più di recuperare il quello quello precedente i racconti di Duckwood precedente a questo vi consiglierei più quello diciamo che come operazione mi piace molto mi piace tantissimo questa operazione infatti forse me la ripeterei più spesso ma con con una formula leggermente diversa ecco diciamo che ancora lo vedo un progetto ancora molto sperimentale su cui c'è da lavorare ancora un pochino mi piace però l'idea delle storie brevi zagoriane anche perché no c'è tutte le storie di zagor si svolgono sempre su più albi quindi ogni tanto tirare diciamo una boccata d'aria leggendo una storia di zagor tutta ad un fiato mi piace cioè questa questa idea mi piace anzi io aspetto sempre come sapete infanzientemente una una ristampa cronologica di zagor vedo che non è prevista nemmeno per quest'anno purtroppo mi dispiace voi direte vabbè c'è la collezione storica a colori ecco quella non mi piaceva molto mi piacerebbe uno zagor classic tipo come è stato fatto per tex anche l'idea di albetti 66 pagine no come si sta usando adesso i bonelli con delle storie complete non sarebbe male cioè pensateci cara cara bonelli a questa questa io sarei uno proprio uno di quei lettori propensi a a leggere qualcosa del genere quindi la recensione finisce qui è durata 25 minuti vabbè ma è normale perché sono comunque sei storie io vi saluto e vi messaggi di così c'è non vi ricordo un po' di volevo dire vabbè c'è vi saluto e grazie per aver ascoltato la mia recensione spero che che vi sia piaciuto vi invito a mettermi un like e a seguire il canale alla prossima ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti